Quando voi guardate questo video io sarò già partita, quindi non sarò a Roma, non sarò a casa ma avrò anche usato tutto quello che ho portato di beauty nel mio bagaglio a mano come vi dicevo nel video precedente ve lo mostro nello specifico qui e partirei da questa, questa bustina che è una bustina di Divided adesso con le bocche non la trovate, non trovate altre fantasie e qui dentro ho inserito tutto quello che mi serve per il trattamento in volo allora partiamo dal presupposto che io parto prestissimo la mattina non sarò truccata e quindi avrò semplicemente steso la mia crema idratante e finisce lì quindi quando sarò sull'aereo non dovrò rimuovere il trucco perché appunto alle 6 credo che non mi sarò truccata dalle 6 di mattina e quindi ho tutto solo trattamento in questa busta questo mi servirà sia per il volo di andata che per il volo di rientro proprio per mantenere la pelle idratata, non farla seccare ad alta quota non avevo neanche voglia di portarmi tante cose, di fare troppi passaggi perché ho portato però le cose essenziali che so che mi servono cioè quello che ho sempre fatto quando ho fatto voli lunghi prima cosa che ho portato è questa bottiglietta dove c'è dell'acqua micellare che utilizzerò appunto come tonico un attimo quando sarò salita per pulire la pelle e mi sarò fatta il tuppo, le mollettine in testa e infatti ho portato il mio elastico che è attorcigliato a dei cotton fioc che non si sa mai e possono sempre servire e poi ho portato appunto dei dischetti di cotone praticamente contati dove l'andata due al ritorno e stop poi ho portato la mia crema mani e questa mi piace tantissimo perché mi idrata tanto le mani e la userò magari anche sulle braccia ed è la Bisubio Cosmetici Naturali è la bio crema mani, burro di carite ed olio d'argan e questa è la mia crema mani che ho sempre in borsa e me la passerò sulle mani tante tante volte poi ho portato la E-Tower Cream di Elisabeth Arden che voi lo sapete è un trattamento d'urto che userò come impacco sulle labbra proprio per tenerle belli idratate perché ho notato che quando faccio i voli lunghi cioè quando ho sempre fatto dei voli lunghi arrivavo sempre con le labbra spaccate cioè proprio con le pellicine oltre a quella ho comunque portato via il mio burro cacao e questo è quello di Hefflinger Milk protettivo stick all'olio d'oliva poi ho la mia In Flight Refreshing Mist che sto giro veramente in flight che è praticamente quell'acqua spray idratante di Kiehl's non c'è più questa, non la fanno più però appunto ne fanno gli altri tipi è comunque una broom, uno spray da vaporizzare sul viso per mantenere l'idratazione anche questo me lo vaporizzerò più e più volte uno specchietto questo è uno specchiettino semplicissimo, giusto per vedere dove andrò poi ad applicare le maschere e come maschere ho portato questo lip care gel patch questo è un patch per le labbra di Pure Derma è una linea che mi ha inviato delle cose da provare queste le ho tenute proprio da portarmi in volo è un patch gel, un nutriente intensivo per le labbra così lo provo e poi vi saprò dire in questa bustina invece fresca fresca perché mi è arrivata qualche giorno fa mi sono arrivate le 3 nuove maschere di Alchemilla maschere viso e io porto via la maschera viso per pelli sensibili ad azione calmante e rinfrescante quindi sono comode sono 20 ml in questa busta la userò io, la userà la mia amica e ci torneremo pure, mi sa non vi so dire nulla ovviamente perché non ho provato molto quindi così e poi le ultime 3 cosine l'olio nutriente per le cuticole questo è quello di Dior e poi come trattamento quindi come prodottini da applicare quando sto per scendere dall'aereo diciamo che la maschera cercherò di tenerla su il più possibile credo che mi si assorbirà anche non la vado a rimuovere la tamponerò poi con un po' di acqua appunto micellare per togliere l'eccesso per andarmi a mettere il mio trattamento ho adbevo questi campioncini che ho conservato apposta ed è la nuova linea di Claren ha sostituito la linea azzurra che faceva la creme desalterà e adesso la linea si chiama Hydra Essentiel praticamente ha più o meno gli stessi prodotti riformulati e arricchiti e c'è il Bissérom che è quel siero viso idratante che va shakerato perché è un siero bifasico ho applicato sul viso e poi la crema la creme desalterà questa è la pelli da normale secche quindi ho portato queste da applicare poi prima di andare ad applicare quel poco di trucco che se mi va sempre se mi va applicherò prima di scendere dal volo giusto per dire ciao Havana sono arrivata e non sembro malata però è sempre molto cioè io la metto nel bagaglio a mano ma non lo so se poi mi truccherò comunque in questa bustina invece trasparente in questa bustina mi erano arrivati dei prodotti di Nabla comodissime tra l'altro queste bustine queste pochettine andiamo a vedere che cos'ho il mio spray gelizzante per le mani più che altro perché in quel beauty non c'entrava cioè facevo fatica a chiudere quindi l'ho messo in questo però ecco lo porto da tenere appunto in aereo poi ho portato l'olio Eclaminute lui il confort è l'olio nutriente per le labbra di Clarenne questo è il Redberry numero 03 da appunto usare come balsamo labbra e sempre per le labbra ho portato una cream lip stain di Sephora perché queste sono le mie tinte labbra preferite infatti porterò solo questi prodotti solo questi in altri colori anche anche nel viaggio perché sono quelle che quando metterò il rossetto sono sicura di stare tranquilla perché mi dureranno bene ed è la numero 06 ed è un rosino malva sì un rosino malva e poi il Fito Lip Twist che sono quei balsami idratanti per le labbra di Sisley colorati questo è il numero 11 ed è questo colore che vedete sulle labbra quindi è un pesca nude marroncino senza infamia e senza lode che però dà quel tocco di colore molto naturale che non guasta correttore 1 e 2 ne ho portati 2 1 e 2 1 è il correttore che sto usando tutti i giorni adesso ed è il correttore di L'Oreal l'accord parfait quello con la spugnettina con l'applicatore così questo correttore vale tantissimo pur avendo un costo ridottissimo cioè rispetto a tanti altri correttori più costosi che ho provato non ha niente proprio di meno è molto buono mi dura tutto il giorno mi copre bene mi piace e poi quello di Clarenne a penna Le Claminute Pinceur Perfecteur numero 02 questo era il colore invece non c'è più scritto comunque vaniglia dovrebbe essere che è quello a penna che invece vado ad utilizzare appunto tipo qui nelle zone che voglio un attimo illuminare a mod di fondotinta ma senza essere un fondotinta ok quindi un uniformante per il viso dovessi averne bisogno mi sono portata la spugnetta la mia beauty la Real Techniques sozza sozzissima e devo ancora lavare tutti i pennelli prima di partire quindi laverò tutto giuro ah ecco fondamentale importantissimo il prodotto per le sopracciglia per tutto il viaggio utilizzerò questo quindi ho il suo non è il suo proprio della stessa marca però il pennellino che ha da una parte la spazzola dall'altra parte il pennellino per applicare e ho scelto di portare il delineatore per le sopracciglia di Diego Dalla Palma che è appunto questo nel numero 02 che fra tutti i prodotti per le sopracciglia che ho ultimamente è quello che mi mi sembra mi faccia più uniforme fra capelli e sopracciglia gli altri o sono troppo chiari o sono troppo scuri invece lo 02 va benissimo poi ho portato sempre per quanto riguarda le sopracciglia io uso tantissimo questo che è il Cajal di Pupa il Pupa Vamp Intense Cajal infatti lo finirò questo lo finirò sicuro ed è il numero 003 il color burro se non doveste più trovare questo se volete provarlo c'è quello di Collistar Burro l'Intense Cajal che è praticamente identico quindi ho uno o l'altro e poi due mascara uno il mio mascara di Estée Lauder il Sumptus Knockout che è quello che sto usando in questo periodo e poi avevo una minitalia del nuovo mascara di Collistar sempre questa me l'ho conservata ed è l'Art Design che me la porto comunque via così la posso provare anche se non ha ha una spazzola il mascara che non è tra le mie preferite vedete com'è grande ed è in fibra io preferisco quelle nella stomera quelle in specie di silicone ultima cosa il mio blush ed è ovviamente il MAC Mineralize Blush Lovejoy che è questo qui che è questo che indosso anche in questo momento che indosso tutti i giorni perché è una sorta una via di mezzo fra un blush e una terra quindi si da quell'aspetto gotine sole insomma quell'aspetto lì bene ragazzi come vi dicevo questo video ve lo state guardando ma io sarò già partita sarà l'unico video che sono riuscita a registrare e caricare per questa settimana quindi vi lascio senza il video del sabato però insomma mi perdonerete lo so noi ci vediamo al mio rientro e così magari al mio rientro cercherò di fare qualche review su qualche prodottino che ho utilizzato e ho avuto modo di provare e vi dirò se con questa routine flight mi sono trovata bene un bacione ciao ciao